Eccoci qua, buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Non Mi Rassegno, puntata in cui parleremo di due argomenti di cui abbiamo già parlato in passato, che sono il nuovo coronavirus cinese e le elezioni in Emilia Romagna e Calabria, soprattutto in Emilia Romagna a dire il vero. Vi ricordo che però se avete suggerimenti, domande o notizie che volete segnalarmi potete farlo nei commenti di questo video e che trovate questo format nella versione podcast sulla pagina Rassegna Stampa di Italia che Cambia, dove trovate anche tutti i link alle notizie che cito durante la rassegna. Va bene, allora partiamo subito col nuovo coronavirus cinese. Ci sono un po' di novità. Nella prima valutazione di qualche giorno fa che aveva fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la massima autorità in materia, aveva valutato moderato il rischio globale legato alla diffusione del virus, ritenendo invece molto alto quello per la Cina e alto a livello dell'intera regione. Ieri però questa valutazione è stata rettificata e adesso si parla di rischio alto anche a livello globale. Ora, onestamente non ho alcuna competenza per poter valutare quanto sia grave effettivamente la situazione e ritengo che sia corretto fidarsi delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo però non vuol dire che moriremo tutti o che stiamo morendo tutti, nel senso che attualmente sono morte 106 persone, tutte o quasi anziani o con il sistema immunitario già debilitato, su un totale dei contagi che il governo cinese stima attorno ai 4.000. Quindi parliamo di un tasso di mortalità del 2,7%, che non è basso ovviamente, però non è neanche altissimo, e si presume che la stima sia comunque in eccesso, perché i pazienti dichiarati finora dalla Cina sono solo i casi confermati, che sono, cioè potrebbero essercene altre migliaia, anche perché non tutte le persone contagiate sviluppano i sintomi del virus. Il governo cinese questa volta, fra l'altro, sembra essere piuttosto reattivo nel prendere in mano la situazione, a differenza di quanto era avvenuto in altre occasioni in passato, e diverse città sono state messe in isolamento. Nei fecolai più attivi è stato persino bloccato praticamente tutto, dalle scuole, ai mezzi pubblici, agli uffici. Quindi diciamo che sicuramente è una situazione complicata, ma non è il caso di farsi prendere dal panico, di farsi prendere dal panico. Certo, al di là di questo virus specifico, un caso come questo ci può far riflettere su quanto sia poco resiliente il sistema che abbiamo creato, nel senso che viviamo tutti concentrati in pochi luoghi densissimi, che sono le città, che a loro volta sono fortissimamente connesse le une con le altre. E ovviamente è un habitat ideale per la diffusione di un virus o di qualsiasi altro tipo di agente patogeno. Perciò sono un po' tutti liè ad aspettarla questa pandemia, nel senso che per questo anche poi i giornali partono a razzo appena ci sono i sintomi di un nuovo virus che si sta diffondendo. Io mi sono andato a ripescare un po' di vecchi report, articoli, e ad esempio c'è questo studio dell'ottobre scorso pubblicato dall'Emerging Risk and Research Team dei Lloyds di Londra, secondo cui una pandemia globale non è un rischio ma è una certezza e stiamo solo, cioè non sappiamo semplicemente quando accadrà. Oppure c'è uno studio del 2016, questo è molto divertente, pubblicato su Upside Risks che fa i conti in tasca alle pandemie e dice un'epidemia come la famosissima influenza spagnola del 1918 potrebbe provocare persino il 10% della riduzione io dicevo, pensavo, della popolazione mondiale, no, del PIL. E vabbè, è abbastanza folle come cosa però. Comunque non è divertente però mi fanno sempre sorridere queste astrazioni assurde per cui andiamo a calcolare la percentuale di riduzione del PIL di una possibile epidemia che magari va a decimare la popolazione mondiale. Comunque al di là di queste cose, insomma tutto questo argomento mi ha fatto un po' riflettere l'argomento di questo virus e la considerazione che mi sento di fare è che forse piuttosto che strapparsi i capelli per questo nuovo coronavirus, forse sarebbe utile concentrarsi sul perché epidemie del genere rischiano di diffondersi così velocemente e magari iniziare a riprogettare sistemi più resilienti tanto non è solo una questione di virus cioè il nostro sistema è il classico sistema robusto ma fragile da tanti altri punti di vista dal punto di vista ambientale, climatico, dal punto di vista sociale insomma è un po' tardi per continuare a concentrarsi solo sui sintomi e è necessario buttare un occhio alle cause quindi riprogettare quasi da principio questo sistema o almeno fare una transizione di questo sistema verso qualcosa che sia molto più resiliente da tutti i punti di vista e non perché adesso c'è il nuovo coronavirus cinese ma perché in realtà siamo nel mezzo di una crisi ambientale che richiede un'operazione di questo genere va bene, chiudiamo la parentesi pandemica e passiamo a un altro virus ben peggiore ovvero la politica vabbè, scherzo, ma non so sì, forse, non lo so ad ogni modo, a Mente Più Freddo ho raccolto un po' di indicazioni interessanti che emergono dalle votazioni di ieri selezionando un po' di articoli dal post internazionale valigia blu, qualcosa postata sui social e così via allora, in Emilia-Romagna, come dicevamo anche ieri l'affluenza è stata quasi il doppio rispetto alla tornata precedente questo non è successo in Calabria come mai? probabilmente il motivo è dovuto alla forte polarizzazione che ha caratterizzato questa campagna elettorale emiliana-romagnola forte polarizzazione che per l'altro si è rispecchiata anche nel voto tant'è che le due principali coalizioni centro-sinistra e centro-destra hanno praticamente distrutto tutti gli altri partiti e hanno raccolto insieme il 95% dei voti a fare le spese di questa polarizzazione è stata soprattutto più di ogni altra forza politica il Movimento 5 Stelle che è passato in due anni dal 27% alle ultime politiche al 13% delle europee per finire all'attuale 4 e qualcosa per cento in Emilia-Romagna stiamo parlando anche in Calabria più o meno l'andamento è stato simile e adesso sono in molti a chiedersi cosa succede al Movimento 5 Stelle cioè cosa succederà d'ora in avanti perché è un movimento abbastanza allo sbando senza un capo politico dopo le dimissioni di Di Maio senza più consensi nel paese e quindi nessuno sa esattamente cosa succederà a marzo probabilmente si terrà una specie di congresso dove i possibili candidati alla successione si faranno avanti e i nomi che circolano sono un po' i soliti quindi di Battista, Fico, Lappendino ma ancora sono più che altro rumors la mia impressione in generale non me ne vogliano le persone che hanno partecipato a questo movimento fin dall'inizio è che la parabola politica almeno dei 5 Stelle stia un po' volgendo al termine perché sicuramente il Movimento 5 Stelle ha avuto il merito di portare al centro del dibattito un tema fondamentale che è la critica alla democrazia rappresentativa però non è riuscito a fare quel passetto in più ovvero quello di sperimentare veramente un modello alternativo che non poteva essere la democrazia diretta perché è un modello che non risolve nessuno dei veri problemi di questo modello qua che non stanno tanto nel chi può prendere le decisioni ma nelle dinamiche competitive che stanno dietro che stanno prima della decisione che portano a prendere quelle decisioni mi rendo conto che buttata là così non vale un granché è molto abbozzata è poco comprensibile ma ne riparliamo prometto che ne riparliamo presto di questo tema perché è uno dei temi più importanti di tutti quando parliamo di cambiamento ultima indicazione sempre continuando a parlare delle elezioni delle regionali in Emilia Romagna in questo caso la prendo in prestito dal collega Sergio Ferraris che analizza su Facebook il fallimento dell'ambientalismo politico lui scrive in una delle regioni tra le più ricche, colte e meglio amministrate d'Italia le tre liste ambientaliste sovrassediamo sulle considerazioni circa la numerosità delle liste ottengono complessivamente il 6,2% ben lontano dal 18% è la Germania il tutto senza la concorrenza del Movimento 5 Stelle che evapora al 4,7 e col PD e la Lega che di ambiente nel programma avevano poco o nulla e il 2019 è stato l'anno degli incendi planetari delle COP fallite e di Greta questo è il post scritto da Sergio Ferraris ed è una considerazione sicuramente interessante perché è vero è vero che in una regione come l'Emilia Romagna potevamo aspettarci un risultato diverso c'è a mio avviso un elemento che controbilancia un po' questo dato e che è di segno opposto ed è il risultato abbastanza straordinario di Ellie Schlein che è candidata per Emilia Romagna Coraggiosa che era una delle liste con il programma più spinto sicuramente in chiave ambientale e lei era sicuramente una candidata molto credibile che è stata in assoluto di tutta la regione la candidata più votata con oltre 22.000 preferenze e questo comunque mi fa pensare che è vero che da una parte c'è stato il fallimento dell'ambientalismo politico ma dall'altra anni di impegno credibilità e un programma serio in chiave ambientale possono anche premiare anche dal punto di vista politico quindi non lo so penso che sono argomenti su cui potremmo fare anche altre considerazioni nei prossimi giorni va bene io però per oggi come ogni giorno vi devo salutare perché sono scaduti i miei 10 minuti canonici perciò vi saluto appunto vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Un'Omi Rassegno e vi ricordo anche oggi che chi si rassegna scusate è perduto ciao